mi bevo il caffè sono molto triste molto maleggiato una tristezza infinita mi spruzzo un po di guardate fatto spruzzerei così in generale un po di acqua termale così mi riprendo un attimo ragazzi mi sono scritto un po di cosine qua ma è veramente vergognoso tutto quello che sta accadendo secondo me questa cosa può succedere solo una piazza nella città di roma ma in particolare nella sponda giallorossa siamo stati capaci in 180 minuti di dimenticare tutto quello che avete scritto su daniele de rossi ricordate quando ha battuto il brighton e il milan il feinard tutti i contratto a vita capitano futuro ha migliorato parere samminato pellegrini la squadra gioca a pallone e contratta a vita il progetto il nuovo ferguson che non è d'accordo manca queste cose qua queste sono tutte quante cazzate che vi inculcano sempre questi qui della stampa che adesso improvvisamente pizzicano sempre de rossi per stare un po con la società e è strano questa cosa perché hanno sempre sfondato la società proprio soprattutto in quotidiano sportivo romano eh fatevi una domanda io lo so perché vi posso garantire che so perché magari una questione di rapporti la buttiamo lì magari parlano con qualcuno qualcuna della società e le cose cambiano e giù le mani date rossi giù le mani date rossi perché dopo io sono costretto a raccontare tutti i retroscena che ci sono perché non è possibile che un paio di quotidiani in una radio in particolare sfondavano i fredkin e improvvisamente i fedi non si toccano più con questo casino che hanno fatto con di bala ok sapete cosa la penso io per me di bala doveva essere ceduto la società ha fatto un casino lo vende erano tutti d'accordo la verità che erano tutti d'accordo il calciatore i fredkin e chi soffi la parte tecnica lo staff tecnico daniele de rossi erano tutti contenti erano tutti convinti della scelta chi ci ha rimesso e poi alla fine il tifoso della roma che che creda le favole lui a rinunciato a 25 milioni ma che cazzo ha rinunciato ma di bala non ha rinunciato a nulla anzi è stato chiesto di rinunciare a un milione e mezzo l'anno su 25 milioni gli è preso un colpo si è messo con i braccetti corte si è messo così di bala io non rinuncio a niente per me potrebbe essere anche giusto ma di baolo di bala non fare il fenomeno sono rimasto per i tifosi ma quale tifosi che ha firmato la clausola per 12 milioni ma tu sei il primo che hai firmato che già vuole inna via ma quale sei rimasto ma questa è una fauna che non ti possiamo più permettere hai messo in difficoltà anche a roma hai aspettato fino all'ultimo per decidere la roma non vuole darglielo a 3 milioni ma che sono andati col fucile ma avete mai visto che vendete una casa 200 milioni e le commissioni sono di 800 milioni ma lo capite che era una cazzata che non si poteva proprio era assurda per questo ormai ha detto senti chiudiamo 12 milioni rinuncio a qualche po di commissioni perché le commissioni probabilmente non anche per la famiglia e mi voglio fermare qua mi bevo un altro coccio di caffè nel frattempo iscrivetevi al canale è gratuito iscrivetevi al canale per favore a 4 minuti ci può stare un gocettino di caffè cremoso guardate è vero bicchiere plastico non è proprio il massimo della vita però questa sera mi andava da lavare le tazzine e ho voluto fare così andiamo alla lite si stanno allenando la lite è confermata complimenti a rai sport che ti fa fuori la notizia che noi facciamo i complimenti ci mancherebbe altro e ma quale mani ma quale si sono menati ma quale pizza in faccia ma che cazzo sta girando sul web delle cose assurde è stato una vita di spogliatoio cristante de rossi si stimano si stimano come persone e lo vedrete che sabato andrà in conferenza de rossi smentirà tutte queste cazzate che state scrivendo quindi io vi dico anche dalla roma che la discussione c'è stata non è vero che la roma smentisce è una cazzata la roma lo conferma è una normale queste ridice ne sono tantissime ma in questo momento serve far uscire la notizia il clima serve per creare intorno a daniele rossi un clima ostile questa è veramente una vergogna ma una vergogna che ancora a trigoria ci sono i topini che riportano fuori le cose quando quando luciano spalletti vi diceva i topini i topini i topini topini che parlavano con radione 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 eh c'era proprio una persona che andava lì che era la scala la scala la scala nera nera di un grandissimo calcio della roma ogni cosa è uscita uno spogliatoio boom lo veniva a sapere la radio raccontavano i dettagli le cose di spogliatoio sono segrete noi che facciamo questo questo di lavoro potete fare gli spiritosi o no tanto ieri danzo che veniva a roma chi cazzo ve l'ha detto chi ve l'ha detto se non io io e l'aria abbiamo tuitato da una vese qualcuno l'aveva messo non lo sapeva nessuno eh quindi le cose di spogliatoio non lo rimane nello spogliatoio noi sappiamo delle cose di chiesa ce le teniamo per noi per correttezza quello che racconta fascino la juve non era la verità oppure è una verità ma è una cazzata quindi loro hanno questo bisticcio dura 10 secondi dura 10 secondi cosa guardate 10 tanto questa cosa poi uscirà finisce là perché cristante e de rossi hanno un rapporto extra calcio poi de rossi non piace vuole fare un calcio diverso ma no perché cristante è un'altra buffonata cristante è un bel calciatore ma comunque qua hanno rotto i coglioni perché il bancini cristante e pellegrini che guadagnano circa eh sei quasi 11 12 milioni di netti 24 milioni di lorchi poi faremo un video su questa cosa qua hanno uno stipendio da della champions con un rendimento da conference league ma voglia cambiare 76 mila allenatori ok poi quello che c'era l'anno scorso non allenava vabbè ma aveva detto tutte le salse adesso lì ho ricominciato gli albi le risse a me mi viene da sorridere se non mi viene una tristezza infinita quindi nel frattempo domenica secondo me per questo sbagliate perché domenica per me di bala andrà in panchina ok e de rossi si è incartato perché lo doveva mettere in panchina anche con le empoli lo doveva mettere in panchina anche lì ma adesso lasciamo perdere questo discorso qua la verità la discussione durata 10 secondi 10 non si sono menati non si sono presi le pizze in faccia ma di che state a parlare ma che fanno il bronx e dentro a trigoria non cacciati 100 ne devono cacciare 150 se fai tabula rasa si riparte da zero se tu galleggi se tu galleggi questa cosa non si riuscirà mai anche qualche ex dipendente che è buono per me devi fare bu piazza pulita devi fare piazza guida così dopo capisci chi sta con te e chi sta incontro di te ok comunque dei rossi sabato vi smentirà tutto questo film di far west che hanno fatto con voi vi smenti a tutte queste cazzate che avete sempre c'era montato sopra poi tutti i siti ha detto tutto 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 come riportava da come riportava è tutta una cazzata fateci caso 9 su 10 dei siti tranne qualcuno è per esempio di fabrizio aspri che è ottimo che che ha riprende delle notizie perché ci sta ma anche la delle informazioni ma sul resto fate messa al sito vi ringrazio buona serata sono nervosissimo aspettate ci beviamo alla salute pensate la roma no a murigno e no a dibala loro sono niente freganca sono di passaggio noi rimaniamo qua